Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnase Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. Per le statali segnaliamo sull'Aurelia rallentamenti per lavori all'altezza di Vada nei due sensi di marcia. Ci spostiamo sulla statale 62 della Cisa rallentamenti per senso unico alternato tra Aulla e Villa Franca e Lunigiana, anche in questo caso nei due sensi di marcia. E ancora su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per cantieri tra Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione di Siena. In chiusura per il traffico aereo il volo Firenze-Dirana delle 14.45, al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 16.40. Muoversi in Toscana-Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto da Agnase Fedeli, un buon proseguimento d'ascolto. Grazie a tutti.